Si vede una bellissima persona così con spirito giovanile che si vuole divertire, bravissimo, allora Chiudi 10 anni che fanno Chiudi 10 anni che fanno Quindi fa concorrenza a voi, Corona Boys, lui fa concorrenza, che posso fare Io ho iniziato il primo, io È lui che è iniziato, come facciamo, balliamo, back in time, balliamo, back in time Vieni qua, attenzione, attenzione qua, attenzione a Locadene perché è la recorda, sui dimissioni, unica Piano, è, Locadene, per favore, pronto Ciao! 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 Grazie a tutti.